E ancora da chiarire il movente dell'omicidio di Marina Luzzi, la donna uccisa con un colpo di pistola dal cognato Andrea Marchionni, falegname 47enne con velleità artistiche. L'uomo, subito dopo il gesto cruento, si è recato alla caserma dei carabinieri di Fossombrone per costituirsi. Con sé aveva anche l'arma del delitto, una pistola semiautomatica da competizione regolarmente denunciata. Il tremendo fatto di cronaca è avvenuto in una villetta bifamiliare nelle campagne di Fossombrone in via Pirandello. Marina Luzzi era geometra e lascia una sorella gemella, un compagno e una bambina di appena due anni. Marchionni, rio confesso dell'omicidio, si trova in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro in attesa della convalida dell'arresto. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Pesaro e la cucura di Urbino. Al momento si escludono motivi passionali, ragioni economiche e dissidi. La vicenda ha scosso la comunità di Fossombrone e nella serata di ieri l'amministrazione comunale ha emesso una nota proclamando il lutto cittadino. Ha un certo effetto sentire che c'è stato un omicidio a pochi passi? Molto, 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 perché ho detto guarda, non capisco come è andato a finire il mondo.